10 10 ok ci lasciamo con altrimenti non parliamo esatto ok un saluto a tutti e buon venerdì buon sabato e buona domenica come direbbe Achille Lauro ciao ci proviamo da settimane e ora che è tutto in salita ti penso quanta fatica lasciarti andare perché noi ci proviamo ma quanto pare non basta una calamità se poi nella mia vita di tu che rimane piove fra canali tu perché non rimani e non ti ripari ma non riesco più a scaldarti come le notti ad Amsterdam ricordi che ho di te sono rimasti qui freddi mobili perché ho capito che ancora bisogno di te torna a prenderli che ci beviamo un drink che ci guardiamo un film che poi ho capito che ancora bisogno di te perché di te rimane solo di te quello che non ho di te quello che non ho di te non ricordiamo come deltaplani non basta la tua camicia se lasci un'altra ferita poi ti allontani e piove ancora fra i canali fiori di marihuana fiori di marihuana in questa notte amara ruggiamo ancora ma lontani fiori di marihuana penso alle notti e ad Amsterdam ricordi che ho di te sono rimasti qui freddi mobili perché ho capito che ancora bisogno di te torna a prenderli che ci beviamo un drink che ci guardiamo un film che poi ho capito che ancora bisogno di te perché di te perché di te rimane solo di te quello che non ho di te di te perché di te rimane solo di te quello che non ho di te di te ricordi che ho di te sono rimasti qui freddi mobili perché ho capito che ancora bisogno di te torna a prenderli che ci beviamo un drink che ci guardiamo un film che poi ho capito che ancora bisogno di te perché di te rimane solo di te quello che non ho di te di Domenico Sorrentino il programma è stato offerto da dal 1972 c'è una cooperativa con una lunga tradizione custodita e valorizzata per realizzare un prodotto unico per gusto e qualità un'eccellenza dell'irpinia ma non solo poiché cerniera di due tradizioni la campagna e la puia e da entrambe nasce il celebre casciocavallo podolico e quello irpino la cooperativa agricola molara punta sulla qualità dei prodotti presenti nei più importanti ristoranti e gastronomie di qualità la cooperativa agricola molara è a Zungoli alla via topo dell'anno per info e contatti chiama il numero 0825 845 281 visita il sito www.copmolara.it presenti anche su facebook a melito irpino una realtà consolidata matullo trattoria pizzeria cucina casereccia ingredienti e sapori antichi pasta rigorosamente fatta a mano specialità carni locali antipasti ricchi e curiosi angolo braceria con ampio caminetto e spazi esterni pizzeria con forno a legna dolci fatti in casa locale per ricevimenti possibilità compleanni bimbi con animazione menu per intolleranze e alimentari su richiesta un indirizzo affidabile e di fiducia dove varcata la soglia si accolti da un simpatico staff che vi farà subito respirare un'aria familiare tradizione e familiarità sono i punti salienti di questo locale dove tradizione è sinonimo di antichi piatti tramandati di generazione in generazione matullo trattoria pizzeria e in via libertà 12 a melito irpino a vellino per rinfo e prenotazioni 0825 47 2019 oppure 368 6075 32 chiusura il martedì Grazie a tutti